Guarda un po' che c'è, questo te lo manda Simone, guarda tu, vedi? Tu vieni a casa eh, che tu bevi. Scrocchella, caro Faustino con molto affetto io ti regalo questo buon vino, ora tocca a te, bevo il vino, mangio tartufo e... Nella figa non sono mai stufo. Olè, ti vengo a trovare presto a passia, grande Simone, numero... Dormimo? Ma tu non riesci a cuocchiare con gli occhi? Dormi o no? Ma che dormi? Che dormi? Che stai a fare? Riposo gli occhi. Ah, riposo gli occhi, la bellissima tecnica del riposo degli occhi. Ah mio, stai dormendo? Ah mio, o no? Ma il corcivo... Ma questo è di, ma questo è di... Ma il corcivo, la lingua più parlata. Ma quel corcino, quel corcino... Che vaffanculo, tu il corcino e chi lo ha inventato? Nooo... Si? Ma perché? Ma vaffanculo, pozza fa le fiamme con la bandiera dal culo. Eeeh, ma chi? Il corcino. Consiste nell' addormentarsi davanti alla televisione. Qua io non mi addormento di niente. Come no? No. Si, si è addormentato. Ma io anche perché riposo. Riposo, lui riposo, più le noi occhi riposo. E vaga, va... Ciao. Va bene? Arieccolo con questa patata, sempre davanti. Sei commoso il coccodrillone, eh? Guarda. Ma qui? Ah! Adesso Filiberto ti dirà che hai fatto le lacrimucce? Si. Eh? Guarda che lacrimucce, guarda, guarda qua. Ci sono io con te? Eh? Ma tu non sei come lei. Oh, ma ci sono io con te? Eh? Ma tu non sei come lei. E come so io? Eh, tu sono stronzo. Nooo, anche quando piangono mi dici che sono stronzo. Ci sono io, questo è un bel pelucce, guarda.